In queste ore il governo che avevo definito, come faccio spesso in maniera rituale, diciamo con il gergo della zuppa di porro, un governo di Cialtroni, ha visto il suo Presidente del Consiglio improvvisamente comparire su tutti quanti gli schermi. Non solo è comparso in tutti gli schermi, non quelli di Quarta Repubblica e non quelli della zuppa di porro, ma non solo è comparso in tutti gli schermi, si è messo il golfetto e è andato lì alla protezione civile e ogni mezz'ora pontifica dalla protezione civile. In realtà si è passati dall'idea di essere stati i primi al mondo a chiudere i voli con la Cina fino ad arrivare alla dichiarazione di oggi per cui quelli che chiudono i voli con l'Italia, com'è che ha detto oggi? Ha detto sono inaccettabili. Ma come? L'hai fatto tu nei confronti dei cinesi? Oggi l'Italia è il terzo paese al mondo per contagi e non accetti che gli altri facciano quello che tu hai fatto nei confronti della Cina? In realtà ci sono tante contraddizioni, se ne è presa con i medici che non sono in grado, con gli infermieri che non sono in grado, che sono gli uni che si fanno un culo così in questo momento rischiando più degli altri, se ne è preso con le regioni che invece prima di tutte avevano capito che ci sarebbe potuta essere un'emergenza se non ben gestita, cosa che al governo non avevano capito. Anche questo capo della protezione civile ci fa rimpiangere un po' Bertolaso. Insomma, quando metti insieme tutte queste cose, cose che ho fatto in queste ultime ore, ho pensato di fare un video dicendo questo è peggio di un governo di cialtroni, è un governo di approfittatori che sperano di riuscire a fare qualcosa nel casino della emergenza coronavirus. Che sia chiaro, non è un'emergenza per il tasso di mortalità e neanche per il contagio, o meglio lo è per il contagio, è un'emergenza soltanto di ospedalizzazione possibile di quelli che stanno male, perché l'80% di quelli che si prendono il coronavirus manco se ne accorgono. Bene, tutta questa enorme premessa per dire una cosa, questo non è solo un governo di cialtroni e mi sono sbagliato, sta succedendo una cosa straordinaria in questi momenti, oppure drammatica, e cioè che Conte, che tutto gli puoi dire tranne che non annusi dove va il vento, ha capito che a Roma lo vogliono fare fuori. Stanno preparando un governo istituzionale senza Conte, e Conte invece consigliato da Casalino, avete capito, è ermutanda del grande fratello, quindi ermutanda e l'avvocato di Foggia hanno capito che rischiano di perdere tutto, e quindi hanno fatto all in, e questa emergenza è diventata un'emergenza in cui Conte deve comunicare, dalla D'Urso, da tutti quanti noi deve venire a raccontare che è lui l'uomo che salva dall'emergenza, che deve essere drammatica, e noi dovremmo diventare sovranisti, e noi dobbiamo diventare i più bravi del mondo. Ci ha provato con i voli, poi non c'è riuscito, ci ha provato con la Lombardia e poi non c'è riuscito, ci ha provato con i paesi che ci chiudono i voli e ha fatto quella figura di merda che neanche il paese di Pulcinella si fa mandare via Lombardo-Veniti dalle isole Maurizius, e questi sono arrivati col volo all'Italia e nessuno gli aveva detto che non potevano entrare Maurizius, in un paese normale non sigonella di craxi, ma gli dici ma siete scemi? Beh, insomma, quello che si sta preparando è un governo istituzionale, mano sul fuoco, e quello che Conte sta cercando di sventare è il fatto che lo facciano fuori. Tutto quello che vedete in queste ore, coronavirus, panico, economia che va di merda, è tutto, deriva tutto dalla follia di un presidente del Consiglio che ha capito che doveva cambiare prima Salvini con il PD e oggi, siccome è totalmente inadeguato a quel ruolo, cerca di cambiare e rimanere lì in quel posto soltanto perché deve gestire un'emergenza col maglioncino della protezione civile. Vi prego, non cadiamoci un'altra volta.